Ciao a tutti, io sono Deborah Toffanello e sono un'alunna della prima B del liceo economico sociale. Insieme ai miei compagni Luna Brognara e Lorenzo Schiesaro ho partecipato a un laboratorio di impresa simulata proposto dalla nostra professoressa di diritto ed economia Cecilia Sgravatto. La mia impresa simulata si chiama Les Actions e si occupa della realaborazione e creazione di mappe concettuali che offrono strumenti di studio efficaci, utili e molto creativi. Abbiamo già lavorato per il professor Toso per cui abbiamo elaborato delle mappe concettuali di alcuni capitoli del libro di prima di diritto ed economia Res Pubblica che poi sono stati caricati sulla piattaforma digitale Moodle. Devo dire che le sue aspettative sono state ampiamente soddisfatte. Per qualsiasi richiesta potete contattarci tramite il nostro indirizzo di posta elettronica les.actiones.gmail.com Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!